E' stato rintracciato mentre cercava, era rentato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché se era fatto la doccia si voleva cambiare gli abiti. E' stato trovato così dopo 11 ore di fuga. Bujan Fandai, carabinieri in borghese, si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno tentando anche dei depistaggi. Così li definisce lo stesso procuratore Martani. Nel pomeriggio aveva fatto una telefonata al 112 nel corso della quale aveva in maniera neanche tanto indiretta ammesso di avere compiuto l'omicidio e aveva detto che si sarebbe costituito il giorno dopo. Aveva anche detto che si trovava nei campi ma in una zona diversa da quella in cui effettivamente è risultato essersi trovato. Il giorno prima dell'omicidio aveva attivato una nuova utenza telefonica. Il 41enne Kossovaro hanno ricostruito gli inquirenti. E' arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta entrando dal retro della villetta con sé un borsone pieno di armi impropri e due coltelli, un martello usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era il primo piano, se l'è trovato di fronte. L'uomo la picchia prima a mani nude sulla testa e sul volto, poi il coltello, sette i fendenti letali al torace, la lama insanguinata viene lasciata in un lavandino. Il delitto nella tarda mattinata, a dirlo la conversazione Whatsapp tra Vanessa e il compagno Nicola, poi rincasato mezzogiorno. L'ultimo messaggio a cui Vanessa aveva risposto risaliva alle 11.21. Poi un successivo messaggio delle 11.47 del compagno Vanessa non è stato visualizzato e neanche meno ricevuto risposta. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei è di interromperla. Il kosovaro non accetta e inizia uno stilicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Soprattutto questa persecuzione si esplicitava sul luogo di lavoro, perché immaginare è un supermercato, quindi è facile con pretesti entrare per comprare poche cose poi sul luogo di lavoro e una volta l'era entrato anche in casa. In una occasione al supermercato l'uomo avrebbe anche detto ti ammazzo la donna. Esasperata Vanessa il 26 ottobre denuncia. I carabinieri vanno a casa di Bujan. C'è una perquisizione. Sembra che questo basti per calmarlo. Si poteva fare di più. A rispondere è lo stesso Martani. Continuo a sostenere che le donne devono denunciare, sicuramente, poi cercheremo di capire meglio cosa non ha funzionato in questo caso. Nelle prossime ore scatterà l'interrogatorio, l'imputazione è quella di omicidio con quattro aggravanti. La premeditazione, la pregressa in relazione affettiva, il fatto di avere commesso l'omicidio nei confronti di una donna incinta in gravidanza, e infine il fatto di avere commesso l'omicidio dopo un'attività di carattere persecutorio, i danni sempre della vittima, sempre della stessa persona. Quindi insomma sono imputazioni da ergastolo.